C'è anche l'epidemiologo e consigliere regionale Pierluigi Lopalco tra i candidati indicati da Articolo 1 Puglia per le elezioni politiche del 25 settembre. Lo fa sapere la segreteria regionale pugliese del partito, guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che nei giorni scorsi ha chiuso l'accordo con il PD per le liste dei democratici e progressisti. La decisione giunge all'esito della riunione della segreteria regionale di Articolo 1 Puglia, che si è tenuta lunedì, approvando su indicazione del segretario regionale Ernesto Abaterusso la rosa dei nomi dei territori per le candidature. Con la scelta compiuta dalla segreteria regionale, ha spiegato il segretario Abaterusso, abbiamo voluto, in vista della difficile contesa elettorale, dare il nostro contributo al percorso intrapreso dalle forze democratiche e progressiste. Dopo un'attente e approfondita discussione abbiamo deciso di mettere in gioco le migliori competenze ed espressioni della società civile pugliese, inserendo nella rosa dei nomi persone impegnate nella tutela della salute e nel contrasto alla pandemia, nel lavoro, nella giustizia, nella lotta per l'affermazione dei diritti e della legalità, nella battaglia per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, con l'obiettivo di dare un contributo fattivo e mettere in campo candidature all'altezza della sfida e in connessione con i territori, anteponendo, ha concluso Abaterusso, il bene comune all'interesse di parte.